Un cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia, nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione di approfondimento che conoscete tutti. Oggi parliamo di riforma per la reintroduzione delle province. La norma è arrivata in aula a Lars, ma ci sono più di un dubbio. Arriverà forse in ritardo rispetto al resto d'Italia, ma è legittima. Ne parleremo con un consigliere comunale che di mestiere fa l'avvocato, che è Carmelo Miceli. Ma intanto sigla. E allora vi introducevo, il nostro gradito ospite di oggi è Carmelo Miceli, consigliere comunale a Palermo. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E quindi parliamo di riforma delle province e c'è qualche dubbio, dicevamo. Direttore, mi consentirà di poter dire che più di dubbio parlerei di certezze. C'è la certezza che si sta per fini elettorali raccontando di imminenti elezioni provinciali che saranno, ad avviso di chi lo racconta, valide in funzione di una legge che è incostituzionale, così come sono state incostituzionali le norme passate, più volte impugnate, le norme regionali passate più volte impugnate innanzi alla Corte Costituzionale, che andavano in contrasto con la cosiddetta del Rio. Sappiamo che quando, e devo dire, sono stato un uomo del PD e lo dico oggi con libertà, come lo dicevo in realtà, con la stessa libertà, allora, quando incautamente si fece una riforma delle province che ebbe un impatto nazionale ad eccezione della Sicilia, perché la Sicilia non ha mai attuato e recepito la cosiddetta riforma del Rio, si può discutere sulla bontà della riforma del Rio, sull'opportunità o meno di modificare gli enti di territorio vasto, ma ad ogni buon conto, quando si fece la del Rio e si stabilì un principio cardine, quello per cui questi enti erano cosiddetti enti di secondo livello, cioè enti nei quali i futuri consiglieri ora del Libero Consorzio, ora della città metropolitana, i futuri presidenti del Libero Consorzio o sindaci metropolitani potevano e dovevano necessariamente essere soggetti che avevano già una carica istituzionale, quindi consiglieri già comunali o sindaci già comunali in carica, quando si stabilì questo, la regione siciliana, lungi dal dare attuazione a questa norma, facendo una norma di recepimento che desse immediatamente corso e corpo a quella legge e rimettesse immediatamente in funzione i liberi consorsi e le città metropolitane, da un lato non diede corso e nel tempo ha sempre tentato invece di reintrodurre la cosiddetta elezione diretta a suffraggio universale. Tutte le volte che la regione l'ha fatto, la norma regionale è stata ovviamente impugnata dallo Stato, dal Consiglio dei Ministri che ha deliberato l'impugnativa e quella impugnativa ha annullato di fatto la legge. Questo perché, ricordiamo, la riforma del Rio viene indicata come grande riforma di sistema e come tale sovrasta anche, secondo l'impostazione giuridica, quello che è lo statuto autonomistico in buona sostanza, per spiegarlo a chi ci segue, ma adesso da Roma si parla di riforma della del Rio. Sì, però c'è un dato. O il governo centrale ha la forza e il coraggio di superare definitivamente la del Rio e di consentire alla regione siciliana di legiferare liberamente in forza di una legge superiore che consente l'elezione diretta o qualsiasi elezione indetta nella vigenza della del Rio che è ancora in piedi, è valida ed efficace, elezione indetta in maniera diretta a suffraggio universale sarà illegittima. Ed è folle, sa cosa direttore, che di questo io non riesco a credere che non ne sia consapevole per primo l'avvocato Schifani, il Presidente della nostra regione, che è un luminare del diritto. Ecco, io penso che ne siano tutti consapevoli, ne sono talmente consapevoli che in questo momento stanno già raccontando agli addetti ai lavori che in realtà dietro la possibilità dello svolgimento di queste elezioni che sanno essere indetta in forza di una legge che è in violazione della del Rio e quindi di una legge superiore, ci sarebbe un fantomatico accordo, un accordo politico in forza del quale parrebbe che dinanzi ad una legge incostituzionale lo Stato e il Governo si girerebbe all'altra parte. Quindi farebbe finta di non vedere che c'è una norma costituzionale. Ecco, l'accordo dovrebbe essere in buona sostanza tra Stato e Regione, di questa natura, tu fai una legge, io non la impugno e se non la impugno nessuno si accorgerà che c'è questo problema fino a quando non entra in vigore la nuova legge che io sto facendo, io Stato, di riforma della del Rio. Questo in soldoni sarebbe questo. Premesso direttore, io credo che se fosse così significherebbe che lo Stato di diritto è finito, che noi viviamo in una repubblica delle banane dove si può far finta di non vedere che si calpestano dei principi costituzionali, perché ci sono ben due sentenze della Corte Costituzionale, Corte Costituzionale, che non solo hanno chiarito che questo non si può fare su impugnativa dello Stato, ma avevano anche il diritto era obbligato pure la Regione a dare corso, diciamo, alle elezioni di secondo livello. Ma facciamo finta per un attimo di vivere nella Repubblica delle banane. Probabilmente di questi tempi i cittadini diranno è già così. Ma facciamo finta di viverci anche istituzionalmente nella Repubblica delle banane. Quello che non raccontano è che un consigliere comunale X, e sventura loro, io ad oggi sono un consigliere comunale X, ha la possibilità di impugnare indirettamente nell'ambito di un giudizio ordinario quella norma. Chi sono i soggetti legittimati in teoria ad impugnare per incostituzionalità una norma? I soggetti che hanno il cosiddetto diritto all'impugnativa diretta sono due sostanzialmente. Sono lo Stato, il Governo e la Regione. Ma dimenticano questi scienziati evidentemente che nel corso di un giudizio in cui qualcuno può, dinanzi all'autorità giudiziaria, adire l'autorità giudiziaria per chiedere giustizia perché ritiene l'eso un suo diritto, faccio l'esempio adesso, così sarò più chiaro, questo soggetto X potrà chiedere o sollevare incidentalmente la questione di costituzionale. E io le faccio un esempio per fare capire a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando. In questo momento quella legge dà a me, consigliere comunale, e a tutti i consiglieri comunali degli 82 comuni della provincia di Palermo, il diritto di potersi candidare alle elezioni per il Consiglio e la città metropolitana andando ad un voto ponderato e all'esito dove dovesse essere letto questo soggetto X, il consigliere X, il diritto di ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere comunale e di consigliere provinciale, proprio perché la riforma del Rio ha previsto questo. Facciamo un attimo un passo indietro, parliamo in questo caso di elezioni di secondo livello. Elezioni di secondo livello. Ovvero parliamo della vigente legge del Rio che prevede che non si vada a una elezione a soffraggio universale, quindi non vengano chiamati alle urni i cittadini per eleggere il Consiglio provinciale, ma il Consiglio provinciale venga eletto scegliendo fra i consiglieri comunali e coloro che hanno comunque un ruolo nei comuni dell'area metropolitana, in caso di città metropolitana, del libero consorzio, nel caso del libero consorzio, lo dico a vantaggio di chi ci ascolta che magari non ha competenze, ma questo per farci capire da chi ci segue. Detto questo, nel momento in cui si andrà a un'elezione invece a soffraggio universale, questo non nega al consigliere di candidarsi. Ma nega al consigliere Miceli il diritto, chiamatela se volete aspettativa legittima, di poter essere eletto in base ad un voto ponderato, che è diverso dal voto a soffraggio universale, perché il peso specifico del consigliere comunale di Palermo chiamato alle urne sarà molto più pesante di un consigliere di un piccolo comune, perché i consiglieri comunali avranno un peso diverso a secondo del numero di cittadini che rappresentano. Questo vuol dire voto ponderato, ma soprattutto io avrei, in teoria, se ci fosse una legge che il governo regionale dovrebbe emanare, il diritto ad essere contemporaneamente consigliere comunale e consigliere provinciale. Questo non è in funzione di una legge a soffraggio universale, c'è un voto diretto a cui si possono candidare tutti e nella quale poi gli eletti, se eletti, non possono ricoprire due ruoli territorialmente incompatibili. Ecco, la realtà è che dietro tutto questo, ed è giusto che si sappia, c'è la carneficina delle candidature in una prospettiva squisitamente elettorale, che è quella delle europee. Perché la realtà è che tutta l'urgenza di dare corso ad una legge incostituzionale nasce solo perché c'è una volontà di capitalizzare un ipotetico consenso da parte dei governi, tanto centrale quanto regionale, in spregio anche alla Costituzione, perché così è. Ora, tutto questo comprenderanno che non può in nessun modo passare. Io spero che le forze di opposizione, ma anche dentro le forze di maggioranza, spero che le persone di buonsenso capiscano che noi non possiamo bruciare miliardi, miliardi di euro con elezioni che saranno annullate. Perché il ragionamento che qualcuno furbescamente fa è, se otteniamo in forza di un accordo politico la non impugnativa da parte del governo Meloni, intanto diamo corso alle elezioni, intanto facciamo decine e decine di liste a supporto, diciamo, delle nostre coalizioni e porteranno voti alle urne, poi domani se qualcuno si alzerà e impugnerà, i tempi saranno quelli di un giudizio ordinario all'interno del quale il giudice ordinario deve sollevare la questione di costituzionalità ed eventualmente rimetterla alla Corte Costituzionale e quindi dopo annulliamo tutto. Ora, tutto questo... Potrebbe anche essere passato l'intero mandato per quelli che sono per chiedere la giustizia o quantomeno due o tre anni. Non credo perché, diciamo, credo che le impugnative, almeno quelle indirette, arriveranno immediatamente e credo che, ripeto, non riesco a credere diversamente, lo Stato vero non può girarsi dinanzi, da un'altra parte, dinanzi ad un obbrobrio, dinanzi ad una ipotesi di palese e reiterata violazione dei principi costituzionali. Di fatto, però, questo sarebbe superabile, parliamo di punta di diritto, semplicemente, semplicemente attendendo che Roma vari la sua riforma e facendo una legge regionale eventualmente in forza della riformata legge del Rio, se tutto va come si annuncia che lo si vuole fare andare. No, a questo è assolutamente corretto. Io intanto però metto avanti il buonsenso. Siccome le province, e torno alla mia premessa sulla incauta azione allora quando si fu fatta la del Rio, siccome le province sono degli organismi, degli enti fondamentali, diciamo, ne stanno pagando le conseguenze, ne continuano a pagare le conseguenze i paesi delle Madonie, piuttosto quelli del Corleonese, perché ci sono servizi essenziali, la viabilità, le scuole, ci sono una serie di servizi che attengono la vita di base e i diritti di base dei cittadini, fondamentali. E che sono abbandonati. E che sono abbandonati, che sono abbandonati. Poi si potrà discutere se era il caso di, o se questi sarebbero, diciamo, in qualche modo, tornati in vitalità per effetto della del Rio, oppure se forse non era il caso di lasciare le province per come erano e dare risorse e dare personale. Io votavo già, diciamo, sotto il profilo dell'adesione ideologica a questa seconda corrente di pensiero. Graziano del Rio è stato un mio carissimo amico, ma ho sempre contestato questa impostazione. Io preferivo che alle province fossero date risorse e personale. Lasciarle per com'era e renderle effettivamente funzionanti. Ma, diciamo, ad ogni buon conto, per la funzionalità delle province, prendendo atto che intanto c'è una legge che neanche il governo Meloni è superato. È vero, c'è in discussione un decreto del Ministero dell'Interno che dovrebbe superarlo, ma non penso di svelare un segreto. Io sono stato parlamentare, nella legislatura passata c'era anche un decreto del governo che pensava al superamento delle province. Diciamo, è una cosa di cui si parla da tanto tempo, quello di un possibile ritorno al soffraggio universale, se ne parla da tanto tempo. E però questo non mi importa. Ma, siccome sono enti fondamentali, o si attendeva, o a mio avviso quello che andava fatto, era intanto dare dignità ad una regione che è umiliata, si umilia da sola agli occhi delle altre regioni d'Italia, perché è l'unica che non riesce ad oggi ad attuare alla del Rio. L'unica, parliamo di ormai dieci anni, quest'anno saranno dieci anni, e da dieci anni che dalla dichiarazione, se ricordate, di Crocetta, abbiamo abolito le province in diretta TV, credo che fosse a Domenica Inn, ad oggi non è cambiato nulla perché le province in realtà sono state, diciamo, si cassate, ma mai... È stato cassato l'organo politico. L'organo politico, con la comodità di chi ogni volta interviene di nominare commissari, mi consentirà di dire, senza neanche bisogno di passare dalle elezioni, né di prima né di secondo livello. Ora, siccome noi abbiamo necessità, ne hanno necessità il territorio del Corleonese, ne hanno necessità i territori delle Madonie, ne abbiamo necessità tutti, che questi enti tornino a funzionare, abbino pienezza di poteri, intanto quello che andrebbe fatto è immediatamente, così come era contenuto in una delle ultime istituzioni della Corte Costituzionale, dare corsa ad una legge di applicazione che preveda le elezioni di secondo livello. Un minuto dopo! E che non costano, non costano perché portano. Il consigliere comunale eletto nell'organismo di secondo livello, quindi consigliere comunale di un paese, si candida, viene eletto nella città metropolitana, nel libero consorcio, non ha un emolumento in più. Quindi intanto questo non è un costo. Non è un costo e fare votare i consiglieri comunali di 82 comuni costa molto di meno che fare votare milioni di persone in Regione. Milioni buttati, milioni spesi per fare votare milioni di persone e poi buttati. Intanto si dovrebbe dare corsa a quello, attendere in maniera corretta l'eventuale superamento all'aderrio con una legge nuova che preveda effettivamente la possibilità di un soffraggio universale e poi, se del caso, convocare elezioni legittime. Però nel frattempo un dato di fatto oggettivo è che quello di rivitalizzare da un punto di vista amministrativo le province è un'esigenza non più derogabile, un'esigenza che ci sarebbe stata anche da qualche anno addietro, direi. Assolutamente sì, ma per rivitalizzare le province, siccome siamo obbligati ad un'armonicità di sistema, non lo possiamo fare di certo con organismi politici che un minuto dopo, o secondo me anche un minuto prima, perché non escludo che intanto stiano raccontando politicamente dell'accordo con il governo, preparando le liste, facendo quasi correre tutti per poi, ops, nell'ultimo minuto far comparire che c'è un'impugnativa e dire vabbè, se ne parla fra due mesi dopo le europee quando sarà ultimata la riforma e l'assuperamento della del Rio. Però, diciamo, non possiamo intanto buttare soldi, piuttosto che buttare miliardi di euro, miliardi di euro, con elezioni farlocche, ma facciamo in modo che quei soldi vengano poi riversati nelle casse delle province formalmente e correttamente costituite e che poi quei soldi vengono spese per le strade, per il diritto degli studenti alla mobilità scolastica, per le cose per cui, diciamo, le province sono nate. Questo sarebbe un'idea, ma resta il fatto che anche nelle previsioni della finanziaria sono stati statuiti le somme per il pagamento delle indennità degli eletti, oltretutto per circa metà dell'anno, perché si prevede di farle a giugno, e si considera l'ipotesi di far queste elezioni praticamente insieme alle europee per abbatterne i costi. Allora, in realtà, diciamo, raccontare che l'Election Day sia un modo per abbattere i costi è l'ennesima bugia. Perché in realtà, diciamo, le europee, sappiamo che i seggi come vengono costituiti, il Presidente, i segretari, i componenti del seggio, voi pensate che il tempo in cui questi saranno impiegati a scrutinare sarà lo stesso se ci saranno da scrutinare solo una scheda, un'unica scheda che è quella per le europee, o ci sarà da scrutinare una scheda per le europee ed una scheda per le provinciali all'interno della quale ci sarà. Il voto per il consigliere, il voto per la lista del consigliere, e il voto per il Presidente collegato alla lista del consigliere. È evidente che, siccome ci sono, diciamo, tantissime persone che da tempo aspettano questo spazio politico, perché le province e l'esigenza di un ritorno al soffreggio universale è vissuto come uno spazio politico dove, diciamo, potrebbero andare coloro i quali in questo momento non hanno uno scranno, ecco, è evidente che tutto questo renderà le elezioni provinciali delle elezioni molto vissute, molto combattute, e mi consente di dire non tanto tra il centrodestra e il centrosinistra, ma soprattutto all'interno del centrodestra, dove mi pare, diciamo, che al di là della pazza apparente, sotto traccia, mi pare, che ci siano tensioni abbondantemente latenti. Ecco, quelle elezioni che saranno una vera e propria guerra, che vedranno impegnati centinaia di candidati, che correttamente vigilaranno sul loro vuoto, eccetera, vedranno impegnati i seggi per molto, molto tempo in più, azzardo, almeno una giornata in più. Qualcuno ha calcolato quanto impatta il costo di una giornata in più di seggio istituito, parliamo, ripeto, di almeno milioni e milioni di euro, che onestamente, forse è il caso di spendere in maniera corretta sulle esigenze di vita quotidiana della nostra collettività, e non spendere solo e esclusivamente per un prodotto elettorale, perché la realtà è, si punta al risultato elettorale. In estrema sintesi, possiamo dire che, a prescindere delle valutazioni di natura politica, il consigliere Carmelo Vicevi sta già mandando un messaggio. È inutile, anche se non l'impugna lo Stato, sarò io a impugnare queste cose. Indubbiamente, ma credo che dietro di me ci saranno consiglieri comunali, ma, tra l'altro, dire dietro di me sarebbe anche, credo, poco corretto. Siccome io credo che ci sono tante persone che hanno il senso delle istituzioni e che in questo momento staranno facendo le stesse valutazioni che sto facendo io, io penso che queste impugnative arriveranno, fioccheranno, si istituiranno decine di ricorsi, poi con la necessità, e poi la giustizia. Andremo a intasare la giustizia con cose abbondantemente, diciamo, chiare. Io mi chiedo solo una cosa e chiederei a coloro i quali in questo momento stanno architettando questa truffa, perché è una truffa, qual è il prezzo politico che sono pronti a pagare quando questa truffa sarà svelata, quando risulterà chiaro, perché un minuto prima delle elezioni ci sarà l'impugnativa dello Stato, o un minuto dopo ci sarà un'impugnativa indiretta che porterà poi a sollevare la questione di costituzionalità e nel giudizio di costituzionalità in maniera della Corte ottenere comunque l'incostituzionalità. Questi scienziati della politica che giocano con i soldi dei cittadini sono pronti a prendere l'impegno pubblico ad eventuali dimissioni da qualsiasi carica questi ricoprono qualora questa legge dovesse essere dichiarata incostituzionale lo chiedo al Presidente della Regione lo chiedo al Presidente dell'Arsi lo chiedo a tutti coloro i quali hanno dei ruoli istituzionali e da istituzioni si devono comportare sapendo che quelle istituzioni le occupiamo temporaneamente e non a vita e sapendo che quando le occupiamo contemporaneamente abbiamo il dovere di rispettare lo Stato e i suoi principi fondamentali bene grazie a Carmelo Miceli che ha portato i suoi dubbi quelli che lui definisce certezze e questa notizia che ci fa annunciare la possibilità di una pioggia di ricorsi contro le elezioni che potrebbero andare a buon fine o comunque anche se andassero a buon fine potrebbero trovarsi ad essere annullate dopo uno dopo due anni i tempi della giustizia sono sempre poco certi questo lasciatemi dire però che sui tempi della giustizia ho meno fiducia ma i giudizi e la corte costituzionale sono più rapidi grazie a voi che ci avete seguito grazie a Carmelo Miceli grazie a voi e ci vediamo la prossima puntata e ci vediamo la prossima puntata